Musica Veniamo alla nostra domanda, la domanda che vi ho fatto poco fa Preferisco che il denaro delle tasse sia nelle tasche del popolo piuttosto che nelle casse del tesoro Una frase pronunciata da un personaggio storico famoso e importante La domanda è appunto chi ha pronunciato queste parole La risposta adesso ce la danno ma non subito Vi lasciamo ancora qualche minuto per pensare Antonio Delle Fratte, bentornato, vicepresidente dell'associazione Gilexis Studio Buonasera E Robinho Costi, presidente onorario della stessa associazione Gilexis Studio Bentornati Grazie Allora loro si stanno impegnando per un progetto importante che riguarda il 2014 Precisamente il mese di agosto Quando Cesare Augusto, quel Cesare Augusto, compie 2000 anni dalla sua morte Il bimillenario dalla morte di un personaggio storico così importante Significa per Roma sicuramente un evento da ricordare e da festeggiare in tanti mani diverse Se noi ci stiamo avvicinando a questa data, lo faremo settimana dopo settimana Andando a conoscere sempre di più l'imperatore Augusto Che però nel suo operare ci ha lasciato tantissime cose importanti Che ci possono aiutare ad interpretare e anche a risolvere tanti problemi del presente Antonio Delle Fratte che ha appunto voluto tanto impegnarsi per Augusto Ricordiamo l'appuntamento di agosto come prima cosa L'appuntamento di agosto è il 19 agosto nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio Proprio perché Cesare Augusto venne a mancare il 19 agosto Con l'occasione ricordo cose che tutti sanno Agosto si chiama Agosto proprio da Augusto E il Ferragosto sono le ferie di Augusto Oltre grandi cose che meritano attenzione e studio Anche alcune sono già relativamente più facili ma vengono ignorate Per esempio Augusto ha inventato le pensioni Oggi che noi siamo in queste materie pensioni è molto aperto Lui fu il primo che inventò le pensioni all'epoca per i militari romani A Roma c'erano abbastanza finanziamenti per sostenerle I finanziamenti e lui sì c'erano abbastanza finanziamenti Per il semplice motivo che le legioni romane erano il nervo strumentale principale Per mantenere l'ordine dell'impero e la pace E quindi dovevano sentirsi sicuri Lui inventò diciamo queste pensioni E stabilì una tassa che le avrebbe finanziate Già l'altra volta ne abbiamo parlato di questo Ma oltre le pensioni A Roma lui istituì il servizio dei vigili del fuoco Perché Roma quando lui arrivò al potere Ancora era fatta molto di legno Lui l'ha lasciata poi di pietra Però ancora era soggetto agli incendi E anche dopo di Augusto purtroppo Il famoso incendio dell'epoca di Nerone Se ricordiamo faceva parte di questo Quindi Augusto ci ha lasciato molte cose Quella principale è quella che è legata alla domanda che ha fatto prima Della strategia fiscale Augusto è considerato da alcuni studiosi contemporanei Il più grande stratega fiscale di tutti i tempi Sottolineiamo che la strategia fiscale è forse il nerbo principale Della nostra solidarietà sociale Della nostra concordia e del nostro tipo di benessere Ora noi sappiamo che tutti debbono pagare le tasse Ma il modo come vengono pagate Quante ne vengono pagate Come vengono riscosse Stabilisce se la società è felice oppure no Non è che si possa vivere senza tasse Questo nessuno lo dice Però ripeto Chi tassiamo Quanto lo tassiamo Come lo tassiamo Come li riscuotiamo E come li distribuiamo E a chi Questo è ciò che poi fa la differenza di uno Stato E oggi su questo argomento Si aprirebbe un campo vastissimo Basta pensare come ci stiamo avvicinando Alle prossime elezioni europee E anche qui ricordo che la prima unità europea L'ha fatta proprio Augusto Nell'epoca in questione Avremmo abbiamo molto da imparare Beh guarda caso Anche la stessa Strasburgo Che è sede del Consiglio europeo È stata fondata Guarda caso 12 a.C. da Cesare Augusto Robinho Costi Dunque abbiamo capito che Antonio Dellefrate Apprezza tantissimo questo aspetto Di stratega fiscale di Augusto Lei cosa apprezza di più di questo personaggio storico Così vicino a noi per le sue La capacità politica di Di prevedere prima dei suoi antagonisti Il corso degli eventi E quindi di misurare le proprie azioni In base a queste previsioni Che poi Come la storia ha dimostrato Si sono rivelate esatte Quanto poi a stabilire che lui fosse l'uomo Sommamente dotato di pietas Di virtus Di clemenzia Come ha tenuto a propagare nella storia Su questo si può aprire Un grande ragionamento Per vedere Negli interstizi Dei vari avvenimenti Quale sia stata la sua condotta Ma questo non è l'ottica Di deprimere il personaggio Che come diceva adesso Antonio delle fratte È meritevole di grande rispetto Di grande gloria Del resto Sono duemila anni Che se ne parla bene Quindi anche dopo La caduta dell'impero romano Evidentemente aveva dei grandi meriti Ma nell'ottica Di vedere il personaggio Alla luce delle categorie politiche Così come erano utilizzate allora E come sono utilizzate oggi C'è da credere Che certe categorie Sino di carattere universale Sul fatto delle tasse ad esempio Uno dei più grandi dolori Che Augusto ha sofferto È stato quello Della sconfitta di Deodoburgo La famosa battaglia In cui il console vario Perdette L'organico di tre legioni Lì c'è È una data storica questa Per due motivi Uno per le tasse Perché Vario non andava lì A conquistare Perché quella regione Che va tra il reno E l'elba Che passa attraverso Il fiume Veser Era grossomodo già Nel patrimonio Imperiale romano Andava lì Vario Guarnito di legioni Per riscuotere le tasse E lì Augusto capisce che Discuotere le tasse E imporle O imporle in modo Troppo gravoso Può suscitare anche Non soltanto Un basso tasso Di coesione sociale Ma anche di rebellioni I famosi forconi Di cui si parla Oggi Dopo quella sconfitta Augusto Imparla la lezione Quindi il criterio di equilibrio Nella tassazione Diventa la sua stella polare E fissa Il confine dell'impero A Reno Così poi come Nel Medio Oriente Lo fisserà Intorno all'attuale Turchia Quindi senza più fare La guerra ai parti Da questo punto di vista Da questo punto di vista È l'imperatore Che una volta Che ha messo i paletti All'impero Si misura Con l'esigenza Di trovare la concordia All'interno Non soltanto Rispetto alle tasse Ma la concordia Tra i vari ordini E la grande intuizione E' quel punto Che fa di Augusto Veramente Un grande uomo politico Un grande statista È la valorizzazione Che lui dà Della categoria Dei cavalieri Roma era Senato e popolo Lui inserisce Questa terza categoria Che privilegia Per contenere un po' Il potere del senato E' quella concordia Ordino Che si realizza a Roma Mi piace anche dire Però che questo interesse Che la vostra emittente Sta dimostrando Verso questa nostra iniziativa Riscuote un interesse Anche al di là Dei nostri confini Noi stiamo parlando Con la città di Firenze La città di Viterbo Vorrebbe fare una cosa Il liceo classico Di Venafro Città fondata da Augusto Ci chiede di fare Anche lì La celebrazione Anche il comune Di Rignano Flamina Dove sono dei reperti Archeologici di Augusto Ci chiede Quindi E' lodevole Questa vostra iniziativa Sono tanti che possono Contendersi Augusto Però insomma Ecco Roma Qualcosa Qualcosa da dire Da questo punto di vista Lo vuole mantenere Insomma Se non fosse altro Anche per tutti I grandissimi monumenti Appunto Che ci ha lasciato Quell'epoca storica Anche Allora Rivediamo la domanda Perché dobbiamo dare la risposta A questo punto Non ci ha chiamato nessuno Però Io Ci provo ancora una volta Chi è che ha detto Preferisco che il denaro Delle tasse Sia nelle tasche del popolo Piuttosto che nelle casse Del tesoro Antonio Diamo la risposta Diamo la risposta È stata la regina Elisabetta I Figlia di Enrico VIII Elisabetta la Grande Che ha detto questo È stata coerente Con quanto ha detto E guarda caso Sia la regina Elisabetta Quanto Cesare Augusto Sono considerati dagli storici Due grandissimi strateghi fiscali E altra piccola coincidenza Piccola per modo di dire Ambe due sono i fondatori Dei due più grandi imperi Del nostro mondo occidentale Perché la regina Elisabetta Ha gettato le basi Dell'impero britannico E Augusto Ha gettato le basi Dell'impero romano Forse La strategia fiscale Ci rientra sia dalla porta Che dalla finestra In queste cose Questa è una domanda Che rivolgo Agli ascoltatori Ma le capacità Di strategia fiscale Le abbiamo perdute Completamente in Italia Ma non si tratta solo Dell'Italia Non riusciamo veramente A decidere Le tasse sono esattamente L'espressione Della nostra globalizzazione Perché nulla è globalizzato E' tanto presto imitato Quanto un modo Di esazione fiscale E' efficiente Quindi è la prima cosa Che si copiano gli stati Quindi non è un fatto italico E' un fatto generale Però detto in breve parole Tonino Bisogna sfatare questa leggenda Che gli italiani Non intendono pagare le tasse Tutto quanto abbiamo detto Fino adesso E' giusto Io sono dell'opinione Che vanno pagate le tasse Che sono giuste E quindi bisogna abbattersi Perché le tasse diventino giuste Ma il principio fondamentale Per cui l'Italia Ancora si differenzia Dagli altri paesi europei E' che le tasse Non vengono finalizzate Al rendimento Di un servizio adeguato Alle tasse che si pagano Per cui se la città è sporca E via dicendo E io pago l'arma Pago le tasse E' chiaro che sono portato A non pagarle Da questo punto di vista Il richiamo che si faceva prima Sui servizi Sulle pensioni Sui vigili urbani Sui vigili del fuoco Che Agusto ha introdotto Pagavi le tasse Ma ti dava un servizio E quindi la concordia Era anche una funzione Di questo tipo di rendimento Del servizio Certo Quindi diciamo che In altri paesi Sono più bravi di noi A far sentire Cittadini soddisfatti In altri No Io su questo posso Non sono d'accordo Sul fatto che gli altri paesi Siano migliori Per esempio I paesi del nord Europa Noi facciamo molto Innanzitutto Ripeto C'è sempre bisogno Di più tempo Di quello che ci è concesso Vanno sempre contestualizzate le cose I paragoni si fanno Tra grandezze omogenee L'Italia non può essere paragonata Alla Gran Bretagna L'Italia di oggi Era come paragonare La Caglia O la Britagna dell'epoca All'impero romano C'è una differenza abissale Bisogna delle condizioni storiche Quello che ha preceduto E quello che è venuto L'Italia Come nasce Da 60 anni fa Non era l'Inghilterra Quindi Io i paragoni Eviterei di farli Perché se no Poi tra l'altro Il paragone Se non lo fai In modo olistico Completo Paragoni solo una cosa Questo ci porta fuori strada Sul concetto Della tassazione Noi non abbiamo ancora La figura Dello storico Della tassazione Non esiste Anzi Vederei quelli più giovani Di me Io purtroppo Me ne sono accorto Accorto in età Troppo madura Potrebbe suggerire A qualche ricercatore Di storia Ad esempio Di cominciare a farsi Qualche bella tesi Di fondare Un centro studi Di storia comparata Della tassazione Cosa che non abbiamo Per capire L'intreccio Che c'è Tra libertà E sistema fiscale Ci sono alcuni Studiosi americani Contemporanei Che sostengono Che quando il fisco Si scontra Con la libertà È sempre la libertà A perdere È un tema Che va affrontato Però è anche Un dato E mi fa piacere Che fate questa Trasmissione Mi pare stasera La pulizia Delle vetture Dell'Atac Lì Non si sfugge Non c'è nessuno È il cittadino Utente Che sporca La vettura Quindi Se tutti Non buttassimo I biglietti Per terra Probabilmente Però c'è anche Un sottorganico Di chi deve fare Le pulizie Sì ma però Sono gli utenti Che viaggiano Così come Anche sulle strade Attorno ai cassonetti Eccetera eccetera Che non assolve l'arma Però c'è Come dire Una compresenza Di responsabilità Ma certo Va bene Dobbiamo chiudere Perché è finito Il tempo della puntata Tanto ci vediamo La settimana prossima E riprendiamo E andiamo avanti Con il nostro ragionamento Che parte da Cesare Augusto Ma insomma Arriva poi Ai nostri problemi Quotidiani Allora L'appuntamento Con Roma Città Aperta È per domani Alle 17 Vi ricordo però Anche l'8 dicembre Con la nostra La nostra festa Che in diretta Inizia alle 13 E che appunto Vede anche La possibilità Di venirci a trovare Nei nostri studi Non dimenticate Vi aspettiamo Grazie Allora Arrivederci a domani